Buongiorno, siamo della protezione civile, dobbiamo consegnare le mascherine, grazie. E' cominciata stamani, nonostante il tempo inclemente, la distribuzione porta a porta delle mascherine a cura del sistema di protezione civile comunale. Nelle immagini che vi proponiamo sono in azione i volontari del Centro di Scienze Naturali di Galceti e quelli del gruppo sportivo della Polizia Municipale, ma ad essere coinvolto è tutto il dispositivo dell'associazionismo pratese. E' la terza mandata di consegna dei kit dopo le due della scorsa primavera. I volontari porteranno casa per casa, famiglia per famiglia, i dispositivi a tutti coloro che sono residenti o domiciliati a Prato, con una distribuzione che seguirà i collegi elettorali e che proseguirà anche la prossima settimana. Per ogni nucleo familiare saranno distribuite dieci mascherine, ma successivamente per le famiglie numerose che ne abbiano necessità saranno consegnati ulteriori dispositivi con le modalità che verranno comunicate in un secondo momento. Soddisfatto il sindaco Matteo Biffoni, dobbiamo ringraziare il grande impegno dei volontari, dice che già nelle scorse settimane hanno lavorato per preparare sacchetti contenenti le mascherine. Come comune abbiamo scelto ancora una volta la consegna porta a porta così da poter arrivare capillarmente su tutto il territorio, conclude Biffoni. La distribuzione di mascherine è partita sempre stamani e anche a Montemurlo. In tutto le famiglie montemurlesi coinvolte nell'iniziativa sono circa 6.500, mentre la consegna prosegue in Val di Bisenzio nei punti di distribuzione individuati dai comuni.